Mi hai fatto preoccupare, non mi hai chiamato fino a ora, ho detto ma che non è che sei adormuta? Perché mi pareva la questione che dopo un'ora ancora dovevate finire, ho capito che sono i primi fuochi ma tu mi hai sempre detto che Fabrizio dopo cinque minuti già fai più. Signora, hai stato esagerato, mi stanno facendo una pezza! Che è successo? Che vuole i soldi l'equitaria? Peggio. E' morto qualcuno? Peggio. Ma che ci sta peggio che la volete? Una partecipazione di matrimonio. Sorpresa! Enzo, Lucia, che piacere! Enzo, Enzo! Abbiamo fatto due conti, stiamo in ritardo con la preparazione del matrimonio. Ma non mi fomì, ma questo è un manigone. Bravo, bravo, non a caso le parole matrimonio e manigone si somigliano. E' da lì? E' peggio. Tu pensi che io sia la tercetta come tutte le altre? No, no, davvero. Tu calpesti la mia creatività. Amore, no. Tu calpesti il mio cuore. Tu calpesti il mio piede. E' esattamente vero. Enzo, guarda, io non so che dirti. Non c'è modo, devi assolutamente annullare il matrimonio. Siamo a sentire, eh? Oh, non fu scema, Fabrizio. Lucia, a noi niente ci separerà. La scassa è il mondo. Enzo, ne dobbiamo far decidere ancora tante cose. Siamo in me e scegliere tutto da sola. E siamo in me e scegli qualcosa fuori a tutto. Ma fate decidere tutto da me. Ma guarda che... Grazie.